Buongiorno carissimi amici e buon inizio settimana. Martina Reoloni in studio per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi siamo a lunedì 12 aprile. Andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con il gazzettino. Ci fermiamo un attimo sulla edizione del Nord-Est per leggere due notizie. Una che riguarda la campagna vaccinale in Veneto, in corso in Veneto, e un'altra che riguarda il medico eroe del Falco, come si legge nel titolo di apertura sulla prima, al figlio due risarcimenti. La Cassazione si ha il doppio risarcimento al figlio del medico morto nella tragedia dell'elicottero del suo. Andiamo a leggerlo a brevissimo. Prima ci fermiamo a pagina 5 per la notizia che riguarda la campagna vaccinale. Il titolone recita così, vaccini, poche fiale in Veneto, così la macchina si ferma. In mancanza di forniture, stop a treviso da domani, Venezia chiude i megacentri, a Belluno solo richiami. I disabili pronti alla mobilitazione in piazza, l'assessore Lanzarin, dall'Inps, dati sbagliati. O arrivano i vaccini o in Veneto la macchina da guerra contro il Covid si ferma, inizia così l'articolo. E già adesso va a rallentatore. Utilizzando tutte le forze in campo disponibili potrebbero arrivare a 80.000 somministrazioni al giorno, ma attualmente sta procedendo con il freno tirato a mano. Quali sono gli ultimi dati? Nella giornata di sabato in tutta la regione sono state somministrate 27.215 dosi, di cui 18.692 prime inoculazioni e 8.523 richiami. Complessivamente in Veneto, dallo scorso 27 dicembre, sono state inoculate 1.157.337 dosi, pari al 91% di quelle fornite. Per quanto riguarda gli over 80, finora l'82,5% ha avuto almeno una dose, ma appunto la campagna di profilassi deve fare i conti con le forniture. Come sappiamo, le forniture sono scarse. In attesa delle prossime consegne, le ULS venete sono costrette a fare i conti con magazzini sempre più vuoti. Se non arriveranno le fiale, Treviso stopperà le somministrazioni dei vaccini da domani. Venezia, questa settimana, vedrà la chiusura dei grandi centri di vaccinazione. Domani, mercoledì, con la previsione di aprire le sedi da giovedì grazie all'arrivo di nuove forniture. A Belluno, ricordiamo, le dosi disponibili sono sufficienti solo per i richiami, solo quindi per le seconde dosi. Insomma, o arrivano farmaci o la macchina si blocca, anche perché ci sono ULS che negli ultimi giorni hanno accelerato e adesso si ritrovano i depositi mezzi vuoti. Si parla in questo caso dell'ULS 2 della marca trevigiana, della 6 Euganea, di quella di Venezia e di Verona. In questo quadro si inserisce la legittima protesta dei più deboli, i disabili stanchi delle rassicurazioni, delle promesse, degli inviti ad avere pazienza. I disabili del Veneto, riconosciuti dallo Stato italiano, sono pronti a scendere in piazza. Scusate, sono scappata fuori. Appunto, i disabili sono pronti a scendere in piazza. In Veneto stanno scontando un buco informatico, dati trasmessi da Roma a Venezia, ma limitati a quanto raccontano dal 2010. Ma potrebbero anche essere stati scordati, perché è gente che, pur nella disabilità, vive da sola, non in centri assistiti o di comunità. Quindi la situazione non sta andando benissimo. L'articolo, in questo caso, riguardo al Veneto è di Alda Vanzan. Poi andremo a leggere nel dettaglio quello che sta succedendo in provincia di Belluno. Ci fermiamo un secondo a pagina 9, come anticipavo prima. C'è questo articolo che riguarda una sentenza che arriva dopo 12 anni dalla tragedia di Falco. Dopo 12 anni giustizia fatta per il medico eroe di Falco. Nello schianto dell'elicottero del Sue, ma cortina nel 2009, morirono 4 soccorritori. Stiamo parlando della tragedia di Riogere. La Cassazione dispone la liquidazione di 1,5 milioni di euro al figlio di Spaziani. Ci sono voluti 12 anni di battaglie regali, ma finalmente giustizia fatta in memoria del medico eroe di Falco. Con una sentenza depositata nei giorni scorsi, la Cassazione ha annullato il verdetto emesso nel 2018 dalla Corte d'Appello di Venezia e ha stabilito che deve essere attuato quanto deciso dal Tribunale di Belluno nel 2016. Il figlio del dottor Fabrizio Spaziani, deceduto con altri tre soccorritori nel terribile schianto dell'elicottero del Sue a cortina d'Ampezzo, ha diritto a riscuotere sia la polizia infortuni che prevedeva il rischio di morte, sia il risarcimento dei danni civilistici. In base a un principio che promette di fare giurisprudenza, dunque, il ragazzo terrà oltre 1,5 milioni di euro. La tragedia avvenne nel piovoso pomeriggio del 22 agosto del 2009, e 9, come purtroppo i belunesi ricordano bene. L'elicottero Falco aveva appena completato salvataggio di due escursionisti quando venne mandato in ricognizione a Riogere per verificare che non vi fossero persone travolte da una frana. Di quella disgrazia resta oggi un'edicola sacra nei prezzi dell'area. Il velivolo urtò i cavi della linea a media tensione che alimentava gli impianti di risalita sul cristallo, finendo per precipitare nel torrente. Non ebbero scampo il pilota Dario, il tecnico di Alisso Corso Stefano, il tecnico ecopilota Marco Zago e appunto il medico anestesista Fabrizio Spaziani. Pariamo di Stefano poi da forno e Dario De Filippo. Per tre volte l'inchiesta penale è stata aperta e archiviata. Nel frattempo le famiglie delle quattro vittime hanno dovuto combattere per avere i risarcimenti. Particolarmente lunga e tortuosa è stata la vicenda riguardante Spaziani che aveva 46 anni e lasciò moglie e figlio all'epoca bambino. In tempi relativamente rapidi, attraverso un accordo transattivo, erano stati liquidati 450.000 euro dalla compagnia generale Seguros Espagna che assicurava la responsabilità civile verso terzi del vettore aereo, come succede abitualmente anche nella circolazione stradale. Invece era stato necessario un decreto del Tribunale di Belluno, emanato nel 2014, per intimare a Unipolsai il pagamento di 1.113.000 euro, cioè il massimale dalla polizia assicurativa per rischio infortuni e morte. La compagnia assicuratrice si era però opposta a questa prescrizione, il suo ricorso era stato rigettato in primo grado e parzialmente accolto in appello. I giudici di Venezia, infatti, avevano addirittura ritenuto che il ragazzino avesse causato un danno a Unipol incassando i 450.000 euro dell'indennizzo e impedendole così di rivalersi su generali. Una beffa, dunque, la famiglia del dottor Spaziani aveva dovuto restituire quei soldi senza poter nemmeno riscuotere l'altra polizza. A quel punto il caso era stato portato all'avvocato Alessandra Gracis in Cassazione, la quale ha stabilito in legittimità la legittimità del cumulo fra i due importi. Come si ricava dalle motivazioni della sentenza, è stato ritenuto che le polizie assicurative contro gli infortuni nella parte riferita al rischio di morte dell'assicurato non siano di tipo risarcitorio o indennitario, ma abbiano una funzione previdenziale, attribuendo un di più al beneficiario a prescindere dal suo diritto al risarcimento. Ecco, dunque, il principio che viene riportato letteralmente. Nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante. L'odissea comunque non è ancora finita, la Suprema Corte dovrà esprimersi anche su un'ulteriore polizza stipulata con Unipol dal club alpino italiano di cui il medico eroe di Pieve di Cadore era un soccorritore. Questo a pagina 9 dell'edizione del Nord-Est del Gazzettino. Andiamo invece alla prima pagina di Belluno. Il titolone di apertura recita così Vaccinazioni stretta sui furbetti, basta cittadini con prenotazione rimandati a casa come è già caduto per far posto agli accompagnatori. Precedenza agli utro-ottantenni che non sono ancora stati sottoposti alla prima dose, ieri raggiunta la soglia è del 85% e andremo a leggere a breve gli articoli di Davide Piola, le pagine 2 e 3. Sempre dalla prima un lancio riguarda l'appello degli artigiani. Materie prime sempre più chiare, il rischio è alto. Temiamo che l'inflazione renda difficile la ripresa alla fine della pandemia. E poi parlando sempre di Covid, esperienza dura, mi devo rimettere oppure mi ritiro. Don Umberto Antoniola ripercorre i lunghi giorni alle prese con il Covid, parla dalla parrocchia di San Giuseppe, lavoratore al Boscariz di Feltre e a Venas l'addio all'amato parroco Giuseppe Bortolassa. Oggi alle 15 l'ultimo saluto al parroco che è deceduto nei giorni scorsi in seguito a un'emorragia cerebrale, come ricorderà chi ci segue. A Belluno un altro lutto, morta Amalia, storica barista del caffè Commercio. Amalia Zoldan che per mezzo secolo ha gestito il caffè Commercio di Belluno. E c'è questo ricordo poi di Dedonà a pagina 5 che andremo a vedere. La foto di copertina è dedicata al calcio serie di Vittoria in rimonta per 2-1 a Sedico. Super San Giorgio battuto il Trento, una scivolata si vede nella foto per Agostino Marcolin dopo la rete del pareggio del San Giorgio, proprio lo scadere del primo tempo della super sfida di Sedico con la capolista Trento, poi vinta 2-1 grazie a Pilotti la neopromessa bellunese. Sta stupendo a tutti e c'è un lungo approfondimento a cura di Pasuk alle pagine 12 e 13. Cambiando argomento, Val Vizdende isolata al via i lavori per il ponte, strada dal Fondovale per la Val Vizdende chiusa da oggi per 30 giorni, andremo a leggere anche questo articolo, e a Limana i ragazzi ripuliscono la Val Belluna raccolti 30 sacchi colmi di rifiuti, l'articolo in questo caso è di Federica Fanta. Ci fermiamo a pagina 2. Vaccini scatta lo stop ai furbetti, si legge nel titolo e lo leggevamo anche prima. Agli accompagnatori in codea e a chi non ha diritto viene negata la possibilità prima le persone con più di 80 anni. Da oggi si continua con i richiami, ma in mattinata riapre il portale e gli anziani potranno prendere appuntamento. L'articolo, come dicevamo, è di Davide Piol. C'è qualche accompagnatore che chiede di essere vaccinato, ma siccome abbiamo le dosi contate, mi hanno detto di dire di no. A spiegarlo sotto la pioggia è uno dei volontari che smista le auto in fila ai drive-in vaccini. Il suo compito è quello di capire se le persone si trovano nel posto giusto e se hanno portato i documenti necessari. Con poche parole lascio intendere che ora le regole sono cambiate. Dopo le dichiarazioni del Premier Draghi, la tolleranza verso i cosiddetti furbetti è pari a zero. E viste le attuali forniture di vaccini, lo stesso trattamento riservato è che a Giver e a coloro che cercano di truffolarsi nella lista dicendo «Ormai che sono qui, fatelo anche a me». Sulla scaletta delle priorità, in ambito vaccini, c'è una sola voce, ultraottantenni. L'indicazione del Governo è di completare questa categoria e soltanto dopo di pensare agli altri. Con che coscienza un giovane o uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare, ha chiesto venerdì scorso il Presidente del Consiglio Draghi. Perciò si continua a vaccinare compatibilmente alle forniture, ma le dosi sono riservate agli anziani. Ieri in provincia erano attesi quelli con lettera che il 5 e 6 aprile erano stati mandati a casa per cadenza di Pfizer. Se ne sono presentati circa mille, a cui vanno aggiunte 200 seconde dosi ad accordo. A Belluno è capitato che alcuni anziani arrivassero fino al tendone senza aver compilato l'anamnesi. In quel caso, per non bloccare la fila, hanno parcheggiato l'auto qualche metro più avanti, inserito i dati e aspettato un infermiere con il vaccino. Il volontario che gestiva gli accessi ha raccontato che non è arrivato nessuna persona extra appuntamento. Ma ora cosa accadrà? La settimana in arrivo sarà dedicata quasi totalmente alla somministrazione delle seconde dosi, con un però il portale dell'Ulss1, aperto e chiuso il primo aprile, sarà riattivato da questa mattina solamente per gli ultraottantenni che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anticovid e saranno posti limitati. Quindi prime dosi di vaccino anticovid per persone con più di 80 anni, oggi il portale riapre solo per queste persone, vaccinazioni che saranno eseguite domani, mercoledì e giovedì, nei Drevind di Frelte, grazie al supporto del team della difesa. A seconda delle forniture in arrivo sarà potenziata anche la vaccinazione a domicilio, sempre per gli anziani che non riescono a muoversi, per le altre fasce d'età è tutto fermo. I medici di Minergina Generale avevano cominciato la categoria dei 70-79 anni, ma dopo le sedute vaccinali del 6 e 7 aprile a Ponte nelle Alpi è tutto bloccato. Le giornate in programma, come quella di Lamont, sono saltate, l'azienda sanitaria continua a ripetere, le forniture di AstraZeneca, sebbene siano arrivate in ritardo, sono chiuse nei congelatori perché serviranno per i quasi 15.000 richiami in partenza da fine mese. Una buona notizia arriva dagli ospedali, buona notizia relativa, i ricoveri sono stabili, ieri sera erano 92 come sabato, di cui 53 in area subintensiva e 13 in terapia intensiva e 26 negli ospedali di comunità. Buona notizia appunto fino a un certo punto perché 92 ricoverati non sono pochi, anche se non sono aumentati negli ultimi giorni. Parlando sempre di Covid, a pagina 3, nella pagina che segue c'è la testimonianza di Don Umberto Antoniol, fuori dall'incubo, è stato duro, ha avuto paura, il religioso guida la parrocchia di San Giuseppe a Boscari di Feltre ed è stato contagiato dal virus. Rientro in comunità, rinviato, il vescovo mi ha concesso 15 giorni al colco umano, devo riprendermi. È stata un'esperienza dura, dice Don Umberto, non me l'aspettavo di trovarmi in questa situazione, ora sto arrivando al capolinea di questo percorso. Non tornerà subito in parrocchia, appunto ha la possibilità di stare 10-15 giorni a colco umano per riprendersi e racconta poi quello che è stato il suo percorso. Iniziato con la febbre, oltre 38, ha preso la tachipirina seguendo un consiglio che gli ha passato la temperatura ma non è servita per contrastare l'infezione. Il giorno dopo la mia dottoressa mi ha fatto il tampone e dalla sera ero in ospedale nel reparto Covid. Ora l'aspetta nel centro Papaluciani una fase di recupero delle forze e poi vengono ricordate anche le morti di Don Giovanni Unterberger prima e di Don Elio Lares e poi il decesso di Don Giuseppe Bortolà sono causato dal Covid ma comunque che ha colpito la comunità. L'articolo in questo caso è di Giovanni Santini, nell'intervista di Giovanni Santini. E ancora, leggevamo prima il lancio e cambiamo argomento. L'allarme di Confartigianato, l'inflazione è un pericolo per quando ci sarà la ripresa. La presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella, lancia l'allarme. Le imprese artigiane del bellunese sono in difficoltà per il continuo aumento dei costi di materie prime, prodotti lavorati e semi lavorati. Due rischi che, secondo Confartigianato, si profilano all'orizzonte. Non poter lavorare per agganciare la ripresa post-Covid e asseguire che l'inflazione impedisca un reale ritorno alla normalità economica. Quindi le parole della presidente raccolgono il disagio di moltissimi imprenditori e artigiani bellunesi. Il problema del rincaro delle materie prime dell'allungamento dei tempi di consegna riguarda in particolare il sistema casa, l'edilizia, la carpenteria metallica e il legno arredo. Questo è un altro articolo nelle prime di Belluno. Andiamo a pagina 5, sempre dell'edizione di Belluno del Gazzettino. C'è questo articolo di Daniela Dedonà che ricorda Amalia Zoldan, la storica barista che servì in città il primo Bellini, commerciante in pensione ed è ceduta, 84 anni, a San Martino. Viene appunto ricordata Amalia Zoldan che per 50 anni ha gestito il caffè commercio, storico locale che c'era in via Roma. è morta ieri all'ospedale San Martino all'età di 84 anni dopo alcuni mesi di ricovero per malattia. Insieme alla sorella Mara, che abita in Piazza delle Erbe, è stata testimonia di una Belluno in cambiamento da rurale accolta e politicamente impegnata. Amalia ha visto come, con una stretta di mano, si stipulavano compravendite di vitelli, fieno e fagioli. Ha assistito alla chiusura del caffè che era quasi casa, acquisti per 600 mila euro dalla fondazione Cari Verona, così divenuta proprietaria dell'intero stabile di Palazzo Fulcis che oggi ospita il Museo Cittadino. Amalia e Mara Zoldan avevano assistito alla levata di scudi dei bellunesi che attraverso una raccolta firme chiedevano di dondare di non fare dello storico androne di Palazzo Fulcis solo la biglietteria con bookshop del futuro museo civico ma di mantenerne l'uso di caffè letterario. L'articolo poi continua ricordando la storia. Nell'Ottocento lo stabile era di proprietà della famiglia d'Oglioni e luogo di litigi fra casate nobili di città. Nel 1903 sede del circolo ufficiali con tanto di larimperi, brulè, pavimento in legno e biliardo. Più vicini nel tempo troviamo tra i suoi clienti affezionati i componenti del circolo Bertolt Brecht, i giocatori del rugby Belluno, i cantanti del coro minimo. Divenne poi quasi campo base della sinistra bellunese. Amalia e Mara avevano raccontato al Gazzettino nel 2004 che i clienti erano diventati sempre meno. Entrano i fedelissimi, gli anziani, gli impiegati della zona, gli studenti che fanno plau e non giocano più a carte ma a biliardo. Mentre fino agli anni 70, specialmente sabato e mercoledì proprio, non si riusciva ad entrare da quanta gente c'era. I funerali di Amalia Zoldan saranno celebrati in Duomo domani martedì alle ore 15. Quindi un pezzo di storia cittadina che se ne va. Andiamo avanti e leggiamo l'articolo che riguarda i lavori sul ponte che causeranno la chiusura, l'isolamento della Val Vizende. Di fatto via all'opera da 800 mila euro serviranno 30 giorni di cantiere per mettere in sicurezza il manufatto sul piave e ferma neve. Strada dal fondo valle per la Val Vizende è chiusa da oggi per 30 giorni. Con la via posticipato di una settimana rispetto a quanto è emerso in un apposito incontro che si era tenuto tempo fa, in queste ore è diventata operativa l'ordinanza che prevede la chiusura del traffico pedonale e veicolare sul ponte che sovrasta il piave in località Cordevole a Presenaio e in sostanza si tratta della zona al di sotto della miniera di Salafossa a pochi metri dal bivio della strada regionale 355. Punto obbligato perché vuole salire in quello che viene definito Tempio di Dio in un creatore dal Vescovo Mucin quando egli intervenne nell'agosto del 1966 in occasione della festa nazionale della montagna. Il provvedimento si è reso necessario per garantire da una parte della pubblica incolumità e dall'altra consentire i lavori messi in sicurezza della struttura e della strada. Il progetto si inserisce all'interno della programmazione post-Tempesta Vaglia del 2018 che nel comune di San Pietro si è abbattuta causando gravi danni al patrimonio boschivo e schiantando oltre 70.000 metri cubi di piante. Nello specifico l'intervento i cui primi passaggi sono già stati eseguiti già in giorni scorsi con l'allestimento dei ponteggi lungo i due lati del ponte è parte del piano relativo all'annualità 2020 e come si diceva i lavori hanno un importo di 800.000 euro. Tutti i dettagli sono contenuti nell'articolo che ha firma di Yvonne Toscani. Passiamo ora all'altro quotidiano, al Corriere delle Alpi abbiamo ancora circa 10 minuti di tempo. Il titolo di apertura è dedicato a quello che si profila per i prossimi mesi in montagna e estate al sicuro con le prevendite online. Il 12 giugno l'apertura di 112 impianti di risalita saranno assunti in 1.000 lavoratori stagionali. Presidente Varallo, stiamo parlando di Dolomiti Superski, pianificare le uscite e prenotazioni fondamentali anche per i rifugi. Anche il Corriere delle Alpi dedica la foto di copertina all'impresa del San Giorgio. Parliamo di calcio che ha steso la capolista Trento. Gli applausi del calcio bellunese vanno tutti a San Giorgio Sedico e su all'impresa della giornata di Serie D con i ragazzi di Tiozzo che hanno steso la capolista Trento rimontando all'iniziale vantaggio ospite con le reti di Marcolin e Pilotti. Note poco liete per le altre con il Belluno che ha perso sul campo del Mestre e l'Union Fetre che è stata sconfitta anche a Chioggia e resta al penultimo posto. Ancora parliamo di vaccinazioni avanti di tutta con gli over 80, obiettivo 95%, abbiamo letto prima sul gazzettino questa notizia e qui è riportata in un approfondimento di Paola Dallanese. Sempre parlando della situazione, reparti bloccati, gli oncologici, i pazienti più penalizzati. Lo studio a Genas, nel 2020 in Veneto le visite oncologiche hanno subito una riduzione di oltre il 20% rispetto al 2019. Andremo a leggere l'articolo a breve. E poi ancora, altri lanci dalla prima. Procede a rilento il bonus 110, servono 4 mesi per avviare l'iter. Protestano i geometri, l'articolo è di Alessia Forzin. E con fartigianato, materie prime troppo care, tante aziende in ginocchio. Una notizia che abbiamo appena letto sul gazzettino. Andiamo a pagina 7 per dare uno sguardo alla notizia relativa alla preoccupazione che riguarda le visite oncologiche. Diminuite del 20% a causa Covid e le visite di controllo per i tumori. Ospedali paralizzati dall'epidemia e tanta paura del contagio. I numeri a Genas del drastico calo delle prestazioni nel 2020. L'articolo è di Laura Berlinghieri. Che lo tsunami chiamato Covid abbia travolto la sanità italiana e veneta da marzo dell'anno scorso, costringendo a una quasi totale riconversione Covid degli ospedali è un concetto mai abbondantemente noto a tutti. Ora però arrivano anche le cifre che danno la dimensione a questo fenomeno. Le fornisce l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e sono cifre spaventose che mettono in luce la fragilità del nostro sistema sanitario. Del resto, se non durante qualche finestra aperta per dei periodi brevi, nell'ultimo anno abbondante i nostri ospedali si sono occupati quasi esclusivamente del Covid e delle prestazioni urgenti e non differibili. Si teme che tutto questo potrà avere gravi e serie di percussioni per ancora molto tempo. Nel 2020 in Veneto le visite oncologiche hanno subito una riduzione di oltre il 20% rispetto al 2019. È la percentuale più elevata registrata in tutto il nord-est, mentre è andata ancora peggio in Lombardia con il meno 27,5%. È impressionante notare il crollo anche del numero degli interventi oncologici confrontando il periodo tra marzo e giugno del 2020 con lo stesso periodo dell'anno prima. Tutte le cifre sono al ribasso, ma l'entità dell'emorragia è comunque meno grave rispetto a quella che emerge dai dati nazionali. In ogni caso le operazioni per tumore al colon sono diminuite del 27%, per i melanomi del 20%, per il cancro alla prostata del 18%. Un'altra branca che ha sofferto molto è quella cardiocircolatoria, che soprattutto nei mesi del lockdown ha sperimentato il timore di molte persone nell'andare in ospedale per paura del contagio. Per questo rispetto al 2019 i ricoveri per infarto sono diminuiti del 16% e per ictus ischemico di oltre il 14%. Ma i ricoveri sono tutti calati drasticamente, del 19% quelli urgenti, del 38% e del 39% rispettivamente quelli ordinari e quelli chirurgici programmati, del 41% quelli in dei hospital. A soffrire sono state soprattutto le visite differibili. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo che riporta anche un'infografica con il confronto fra marzo-giugno 2019 e 2020 per quanto riguarda gli interventi oncologici, l'ambito cardiocircolatorio e le fratture e parti cesare, indicatori di sistema. Ricordiamo, non è un dispetto quello che viene fatto dagli ospedali di rallentare le visite e le prestazioni non urgenti. È solo questione che i numeri del Covid sono talmente elevati che impediscono agli ospedali di fatto di occuparsi di altro ed è per questo che è necessario continuare a prestare la massima attenzione, continuare a seguire le regole di prevenzione per evitare che i numeri Covid riprendano a salire. Adesso in questa situazione siamo in una fase di calo ed è fondamentale continuare a scendere. Andiamo avanti, andiamo alla prima pagina di Belluno e cambiamo argomento. Parliamo in questo caso di turismo, siamo a pagina 14, Dolomiti, Super Schi, via il 12 giugno, più sicuri con le prevendite online. Il Presidente Varallo guarda al futuro, apriranno 112 impianti, dice, sei in più del 2020, previste mille assunzioni, l'intervista di Francesco Dalmas. Il 12 giugno apriranno 112 impianti del Super Schi Dolomiti, sei in più dell'estate passata. Diamo per scontato, incrocia le dita Presidente Andy Varallo, che le Dolomiti, ma non solo, tornino in giallo dopo i tanti sacrifici di questi mesi. E si prospettano anche delle novità per affrontare anche questa situazione di pandemia. La principale è senz'altro l'acquisto online del ticket per il trasporto, che darà priorità anche nell'accesso all'impianto, senza dover impattare eventuali assembramenti. Certo, ci sarà la possibilità di restituire il biglietto se non viene utilizzato, magari per il mal tempo, è una sperimentazione, come si diceva. La montagna ha bisogno di una rigenerazione che non passa per la massificazione. Ci auguriamo che il turista, il villeggiante, l'escursionista, assuma quelle responsabilità che dovrebbe aver maturato in tutti questi mesi difficili, si sottolinea appunto nell'intervista. A pagina 17 c'è il caso riportato in questo articolo di Alessia Forzin. Comuni ingolfati dal bonus 110 fino a 4 mesi per avviare l'iter. I geometri serve troppo tempo per l'accesso agli atti, ma Saro manca personale, è difficile trovare una soluzione. Corsa contro il tempo, il bonus 110 per la ristrutturazione edilizia è un ottimo provvedimento perché consente ai cittadini di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione. Però mettersi di traverso è manco dirlo la burocrazia, unita alla carenza di personale e dei comuni che impiegano troppo tempo per consegnare ai professionisti la documentazione necessaria per avviare le progettazioni. Il primo passo da fare quando si vuole riqualificare la propria casa usufruendo del bonus 110 è infatti verificarne la regolarità urbanistica. bisogna rivolgersi al comune, fare un accesso agli atti e ottenere la documentazione. A Belluno possono volerci fino a 4 mesi e non va meglio nei piccoli comuni. Quindi la situazione è a dir poco complicata, ancora una volta è la burocrazia. A Belluno un lavoro per realizzare un cappotto o per sostituire una caldaia non si può di certo fare in pieno inverno, ma per leggerli interventi del bonus 110 devono essere conclusi entro giugno 2022. si rischia un accorso contro il tempo che mette in allarme i clienti oltre ai professionisti. Attraverso l'ANCI abbiamo chiesto al governo di sbloccare le assunzioni, ha detto il sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Abbiamo ottenuto la possibilità di assumere personale a tempo determinato con lo Stato che avrebbe anche garantito una parte delle risorse necessarie per pagarlo, ma i vincoli di spesa sono rimasti invariati e la formazione delle graduatorie richiede ancora tempi troppo lunghi. Sottolinea appunto il sindaco di Belluno che ha parlato della situazione a LANCI. A pagina 19 c'è un approfondimento che guarda le biblioteche, la rete provinciale, biblioteche al bivio, apertura di 15 ore, addetti qualificati o niente contributi. Le strutture fanno i conti con la nuova normativa regionale. Francescon, Manuela Francescon, la referente provinciale, dice agire insieme per raggiungere gli standard dell'articolo di Francesca Valente che in un altro pezzo, nel taglio basso di pagina, parla delle iniziative in streaming e letture, com'è cambiata l'offerta con le restrizioni legate alla pandemia. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo a pagina 19. Leggiamo ancora un pezzo, abbiamo giusto il tempo per un altro articolo, e poi dobbiamo andare a chiudere. Ci fermiamo all'articolo che riguarda Feltre, cibo sano e socialità, gli orti comuni arrivano quota 30. La richiesta è forte, predisposti più pezzamenti comunali. Bonan, coltivare assieme è un modo per conoscersi. L'articolo è di Raffaele Scottini. Attenzione alla salubrità degli stili di vita, certezza di sapere cosa si mangia, risparmio, voglia di stare all'aria aperta. Scusate, ma questa mattina continuano a scaparmi le pagine, voglia di stare all'aria aperta, come dicevamo. Sono tante le motivazioni del crescente successo degli orti comuni. Quest'anno un numero dei cittadini che hanno fatto richiesta di un fazzoletto di terra da coltivare è aumentato ancora, arrivando a 30. Un numero che non solo conferma gradimento dell'iniziativa riproposta per il nuovo anno dall'amministrazione, per il nono anno dall'amministrazione, ma dice molto di più in termini di risvolti sociali, oltre che alla voglia di mangiare sano. Lo scorso anno, con 27 orti, avevamo ottenuto un numero massimo, spiega l'assessore all'ambiente e beni comuni, Walter Bonanne. Gli assegnatari si chiamano custodi proprio perché si impegnano a custodire adeguatamente dei terreni comunali, quindi dei beni pubblici. Valorizzare terreni che altrimenti resterebbero inutilizzati, l'impegno a non utilizzare prodotti chimici, promuovere la filiera corta, riservando quindi la produzione all'autoconsumo e favorire le modalità di coltivazione affini all'agricoltura biologica sono le finalità del progetto. I siti sono due, quello più numeroso in espansione è nel quartiere di San Paolo, in via Cavour, e l'altro più consolidato è in zona peschiera, in via Industrie. La dimensione degli appezzamenti è funzionale alla composizione delle famiglie, che sono anche numerose con 5 o 7 componenti. E abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo domattina puntuali sulle frequenze di Radio Piava alle 8.30 e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un sereno lunedì a tutti, un buonissimo inizio settimana, grazie mille per l'ascolto e a prestissimo. Arrivederci, grazie.